Siamo nel letto del ramo maestro del Bacchiglione, il canale che porta l'acqua agli altri canali padovani. Siamo lungo Via Goito e come potete vedere è una distesa di sabbia. Non c'è più acqua. La poca acqua è qualche pozza che crea ambienti malsani, creando l'ambiente ideale per le zanzare, ma l'acqua è completamente sparita. Era stato annunciato nei giorni scorsi ed ora è realtà. I canali interni padovani sono secchi. Un paesaggio lunare è quello che si trova lungo Via Goito a Padova. Facendo qualche passo si arriva lungo il Bacchiglione. Alle mie spalle il Bacchiglione. Lo vedete, il livello dell'acqua è molto molto basso. Si vedono i pali di sostegno dell'argine. Quello è il canale che dovrebbe portare l'acqua all'interno della città di Padova. Lo scalino però non lo permette, visto anche quanto sia basso il livello del fiume. Percorrendo il canale si arriva a riviera Paleocapa, anche qui davanti alla specola. L'acqua scarseggia tanto che si può camminare sul letto del fiume. Siamo in centro città a Padova, sotto il ponte di Sant'Agostino. Alle mie spalle lo vedete la specola. Lì di solito c'è una cascatella ma l'acqua è ridotta al minimo. Sta scorrendo sempre lungo il ramo maestro. Si vedono zone in cui è completamente sparita l'acqua. Le piogge dei prossimi giorni non dovrebbero essere risolutive. Una soluzione invece potrebbe essere quella di pompare acqua con delle idrovore al ponte dei Cavai.